Buongiorno, stamattina voglio mostrarvi come procedo nei lavori. Abbiamo incominciato a lavorare un po' di humus, siamo nel mese di febbraio, quindi abbiamo incominciato. Qui ci sono due tipologie, non so se notate, c'è questa più fina e poi c'è questa più grossolana e usciranno ancora altre tipologie. Questo è l'humus che bisogna lavorare. Volevo farvi vedere le quantità, cioè il capannone è completamente pieno e qui di fronte a me stiamo ad un'altezza di 3,50 m. Vedete? Non è finita, adesso abbiamo proprio esagerato. Dobbiamo entrare ancora un altro po', c'è il rimorchio qui che stiamo trasportando e vedete. Questo per rispondere a quelle persone che dicono che l'humus non si vende. Qui dentro abbiamo almeno 12-14 mila quintali di humus. Quindi buon humus a tutti. Grazie.